Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere L'Ipnosi Soluzioni, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola ragazzi. Oggi parlerò della parola impossibile, impossibile. Sento qualcuno che ripete, mi hanno detto che è impossibile, che non si può fare nulla, che non c'è niente da fare, che è passato un anno, due anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni, ragazzi, tutto è possibile per chi crede in se stessi, recitano tutti i testi di tutte le razze e culture del mondo e religioni, aggiungo, rifletti la tua mente, come ti ha fatto arrivare quel problema, così te lo può fare sparire in un flat, soltanto devi sapere come fare, con l'ipnosi di CS vera e professionale è il tuo metodo giusto, che non ti fa mettere le cuffie, che non ti fa perdere tempo, che non ruba il tuo tempo a te stesso, a te stesso e al tuo caro, che funziona anche per chi non vuole essere aiutato né online né dal vivo né in nessuna forma e misura. Mi riferisco soprattutto a chi ha una dipendenza buttata davanti alla tv nel letto, vecchio, giovane, bambino, a chi non ti segue, a chi non partecipa, a chi dice non mi interessa, vattene via, non voglio, dipende da me, eppure sta nel fango, nella pianta carnivora, come predico anche a mia figlia, tutti questi sono vizi che possono essere eliminati con l'ipnosi di CS vera e professionale, senza ma e senza sé, come faccio a saperlo? Perché l'ho sperimentato prima su di me, nel 2008 diciamo sono partito da mio padre, per casi gravissimi, colpito da un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo, dove tutti, medici, specialisti, neurologi, chi più ne metta, rispondevano all'unisono che non c'è nulla da fare per mio padre, che non c'era niente, che la scienza non ha nulla, soltanto l'anticoagulante, per non far peggiorare l'ictus, la paralisi, l'ischemia cerebrale, chiamala come vuoi se hai esperienze di queste cose, però mio padre stava nel letto con piaghe di decupito da quasi un anno e mezzo, due, con una depressione cronica perché ragionava, ma non si muoveva, era diventata una larva, piaghe di decupito in tutto il corpo e stava per morire, al che io, il sottoscritto, io all'epoca, non credendo alla parola impossibile, dopo anni a Noromo, da studente lavoratore senza una lira in tasca, in cui credevo al destino e all'impossibile e alla sfiga, quindi immagina che passaggio e che metaborfosi ho avuto, perché questo? Perché ho avuto un papà e una mamma, la mamma era tutto possibile, molto religiosa, eccetera, eccetera, figlia di imprenditori, piccolissimi imprenditori, ho sempre imprenditori, è molto religiosa, una suona mancata e mio padre invece dove? Non era possibile per certi versi, però per gli altri aveva un controllo emotivo incredibile, non gliene fregava niente di chi aveva davanti a lui rispetto a mia mamma, quindi abbiamo due, l'acqua santa e il diavolo, quando ero piccolino, quindi che succede? Che scrissi in tutto il mondo un'email in tutte le lingue, tutti rispondevano anche nel mondo dell'ipnosi, soprattutto nel mondo dell'ipnosi, perché scrissi un'email per capire se nel mondo, in Italia, in Francia, in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Russia ci fosse qualche medico che avesse trattato l'ictus, la paralisi, l'ischemia cerebrale con l'ipnosi, vera e professionale, e tutti rispondevano anche, signori blasonati dell'ipnosi, si rispondevano, no, 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 non c'è nulla, nel 2008, al che, mentre stavo per gettare la spugna, una signora, una dottoressa di Los Angeles, Beverly Hills, dell'associazione di prolegi associati, dopo lo scoperto di Los Angeles, mi risponde, sì qui a Los Angeles trattiamo, affrontiamo, facciamo, abbiamo fatto tantissimi casi di paralisi con l'ipnosi e lì si è aperto un mondo, ragazzi, da lì ho iniziato la mia avventura, ho salvato mio padre, mio padre in 30 minuti online a più di 11.000 chilometri, davanti a un computer ciofeca, una connessione ciofeca, una webcam con i microfoni del computer, quindi con le casse senza auricolari e nulla, mio padre non partecipava, non ascoltava, non sentiva allo schioccare delle dita della dottoressa mentre si faceva il tè, aveva Rocco, alzati e cambia, mio padre si alza e cambia, tu considera la mia incredulità, perché sono un seguace di San Tommaso, se non tocco, se non vedo, non credo, e soprattutto la mia felicità vedendo mio padre alzarsi, rannicchiato, comunque, possessato da una forza sconosciuta che è la sua forza mentale, è andare in cucina da mia madre, e io a quell'epoca avevo fatto da ipnotista autodidatta da qualche anno, avevo letto più di 2.000 libri, avevo ipnotizzato, ipnotizzavo, miscelando tutte le tecniche dell'ipnosi conformista e commerciale, che è ottima ma che non ha nulla a che vedere con il metodo di CS vero e professionale di Los Angeles Beverly Hills, i due grandi professionisti dell'ipnosi, il professor Garayra e la dottoressa Brunini, e quindi che volevo dire, e da lì ho iniziato a farmi ipnotizzare in ufficio, a fare da assistente la dottoressa per mio padre, poi mi ho preso un master, eccetera, eccetera, comunque sono diventato un professionista dell'ipnosi vera e professionale, e lì la mia vita è cambiata ragazzi, è cambiata centinaia di persone nel mondo, ho aiutato centinaia e centinaia di persone nel mondo, una piccolissima parte della mia famiglia, funziona, ti posso garantire, poi i media ci vogliono 30 giorni per vedere gli effetti, però ci sono molte persone che della sera alla mattina ottengono risultati, una minima parte va oltre i 30 giorni, ma chi persevera la vince, una cosa ti posso dire, se tu perseveri, a prescindere dal tempo e rispetti la lettera e le istruzioni facilissime, alla prova di un nonno, di un piccolo e di un idiota, otterrai prima o poi risultati, rispetto a non ottenerli mai di fatto, perché se tu pensi che senza fare nulla te ne poi uscirai, è una possibilità, ma è una possibilità sul milione, se invece utilizzi il metodo ICS, il metodo ICS vero e professionale, anche per chi non vuole il tuo aiuto, c'è tanta gente che non vuole essere aiutata, tu puoi ottenere risultati certi e non ruba il tuo tempo, il metodo ICS, quindi butta l'orologio, butta il calendario, butta il tempo, non è importante, ed è l'unico metodo nel mondo che aiuta anche chi non vuole il tuo aiuto, e ha voglia quanta gente c'è, vecchetti buttati nel letto allettati, come mio padre, oppure bambini, anche autistici, oppure ragazzi, adolescenti, depressi, che non vogliono essere aiutati da te e da nessun altro, alcolizzati, drogati, per vivere le ragazze bisogna capirle, io ne ho viste tantissime, sia direttamente che indirettamente, sia personalmente che non, per cui fidati che funziona, io ho esclamato wow quando ho visto certe cose, e grazie a Dio sono l'ultimo dei moicani, forse in occidente, che predica questo verbo, ho messo dieci anni per filmarmi, perché prima non volevo filmarmi per tanti motivi, adesso ho messo la mia faccia, sono qui, ok, questa è la mia faccia, e che ti serva da ispirazione, a prescindere dal sottoscritto, puoi andare anche presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, ti siedi e inizi, naturalmente che abbia già affrontato e trattato casi come il tuo, perché anche nel mondo dell'ipnosi esistono i generalisti ed esistono gli specialisti, c'è lo specialista per farti eliminare il vizio del fumo, quello dell'alcol eccetera eccetera, poi come ripete un seguaci di San Tommaso che sono io, fai seguire ai bla bla i fatti, perché i fatti sono importanti, mi piace quando mi scrive una persona come una signora che è stata depressa per tanti anni, separata, divorziata, con due figli a carico, insomma il marito non si è comportato nella, aveva provato tutto e stavo provando tutto, perché poi l'ipnosi non obbliga a non prendere più i farmaci, i farmaci vanno sempre presi, tu devi sempre andare dal tuo medico o dallo specialista della tua salute, perché lui è l'unico responsabile, ma l'ipnosi di CS vera e professionale è complementare, sono parole pulite, trasparenti, anche se create ad art, ad hoc, come ascoltare la tv, la radio, i social, però hanno un effetto incredibile e positivo, senza nessun effetto collaterale, perché non si parla di ipnosi conformista e commerciale che tu studi a scuola, qua si parla di un altro metodo, si parla di suggestioni molto diverse e compagnia bella, quindi non ha nessun effetto collaterale, e poi ricordati anche nel mondo dell'ipnosi tutti sappiamo dipingere, ma non tutti siamo artisti. Ok, fammi tutte le domande del caso, risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, ipnosi del dottor Claudio Serracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS, del dottor Claudio Serracino, fa share e condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS, del dottor Claudio Serracino, dimenticavo, esiste solo un caso in cui l'ipnosi di CS vera e professionale non attecchisce, non funziona, chi non fa, ok, chi non fa, quindi tu devi fare, perseverare, continuare, non dire un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, il tempo nel metodo, nell'ipnosi di CS vera e professionale non conta, per cui che te frega, se hai speso quella colazione al giorno per 30 giorni, non la spenderai due volte, ok, se vuoi accelerare il tutto, puoi scaricarti altri mp3 e metterli insieme e farli girare insieme, perché noi siamo fatti non soltanto di una cosa, di più cose, ok, per cui funziona, 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 un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Serracino e alla prossima.